CONDIVIDILA CON NOI La mia vecchia vita. Qualcuno sa come si chiama questo posto? Sono Surabre, Normandia. Abbiamo ancora lo stesso cognome? No, siamo la famiglia Play. Canvenuti! Lei sa dove posso trovarlo? Sai che capita ai tuoi quando li trovo? E tu sei qui per non farlo capitare, giusto? Cerca di non rendermelo impossibile. Se c'è una cosa che non mi piace, è venire interrotto. Il bastardo si nasconde in Normandia. Trovale. Che cosa è stato? Al Capone diceva sempre chiedere educatamente con una pistola in mano è meglio che chiedere solo educatamente. Lei di che si occupa? Le lo faccio vedere. Ho 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 Grazie per la visione!